Perché Sanremo è Sanremo Sanremo Live Ciao, siamo arrivati Com'è? Bene, viaggio un po' bene quindi adesso andiamo a risistemarci e poi inizieremo quella che è la nostra missione per questo festival di Sanremo all'insegna di Claudio Baglioni Grazie a tutti Grazie a tutti Cari amici di Melito TV e Radio Studio 95 siamo in compagnia di Alice Caioli Buongiorno Alice Ciao Come stai? Prima cosa che dobbiamo chiederti Sto bene, sono un po' sommersa da questo mondo un po' più grande di me e quindi sto cercando di godermi ogni sfumatura di quello che sto facendo adesso il mondo più grande però tu vieni anche, hai un bel percorso con varie esperienze dove a volte hai raccontato che sei contenta comunque di non aver raggiunto la notorietà così giovane ed essere invece arrivata adesso con questo bagaglio di esperienza ci spieghi un pochino la motivazione Sì, arrivare ad avere notorietà quando hai poca consapevolezza di te e non sai esattamente cosa vuoi dalla vita, cosa vuoi fare, chi sei è sbagliato, ti bruci presto oggi ho consapevolezza, so un po' cosa voglio, come voglio arrivare mi so raccontare e quindi credo sia arrivato il momento giusto credo sia più giusto oggi che non a 17 anni almeno parlo per la mia esperienza personale sicuramente è una bella maturità parliamo un po' della canzone, è un tema fortissimo Specchierotti, la musica ti ha salvato cosa vuoi, quale messaggio vuoi dare ai tuoi coitanei e non soltanto perché poi certi rapporti ce li hai a qualsiasi età e alcune ferite a prescindere da quanti anni hai ce li hai sempre allora Specchierotti è un invito verso tutti i ragazzi che durante delle difficoltà non indifferenti i ragazzi imboccano le strade sbagliate come alcol, droga, depressione, cattive compagnie e si rifugiano in tutto ciò forse per cercare di attirare l'attenzione di qualcuno altre volte per ripicca, altre volte pensando che sia la cosa giusta io mi sono riuscita a salvare grazie alla musica, grazie a mia madre che si accorta quindi possono farlo tutti, quindi è un invito a volersi più bene e a trovare il coraggio di uscire dai guai perché si può uscire dai guai, si può fare adesso c'è una piccola curiosità tu i tuoi fan li chiami Pipistrelli, tutti pensano che è una cosa un pochino tenebrosa invece è una cosa molto fierbesca, quindi ce la raccontiamo allora, il Pipistrello di Anastasia Bartok mi è stato regalato come peluche quando avevo quattro anni e mezzo da mia madre e da mio padre quindi è un ricordo molto carino che io ho, che mi porto dietro e che dedico diciamo alla gente che mi segue quindi vuole essere una cosa molto carina cioè non è... sfatiamo questo aspetto che i Pipistrelli... sono assolutamente dark per carità sono una persona normalissima quindi abbiamo tranquillizzato coloro che pensano i Pipistrelli, la motivazione però quante volte te l'hanno chiesta? tante, tante però, voglio dire, alla fine è un animale carino sì, carino come pelucino è carinissimo invece stai lavorando, c'è anche un bel lavoro dietro uscirà il tuo album quando ci puoi dire un po' di cosa quali saranno i temi che affronterete? guarda, l'album parla interamente di tutto ciò che mi è successo proprio di esperienze personali di perle quotidiane non l'ho scritto da sola ho voluto altri due autori che sono Andrea Maestrelli e Francesco Guasti e l'album sarà prodotto da Davide Maggioni Francesco Guasti che insomma che cosa ti ha consigliato? visto che lui l'anno scorso è stato... lui è stato molto... mi ha lasciato molto libera di vivere questa esperienza senza condizionarmi con ciò che è successo magari a lui ho detto vai, vivitela tranquillamente quindi... come vivi anche l'aspetto dei giornalisti di noi che facciamo radio, televisione l'assalto praticamente cerco di viverla nel modo più tranquillo possibile è bello è bello e come ti ho detto prima mi godo tutto quello che sta succedendo perché magari dopo non ritornano quindi è bello avere queste attenzioni abbiamo anche questo regalino che ci ha fatto Alice quindi io ringrazio anche Cristina che dietro di te è veramente fantastica in questo momento siamo in diretta Facebook Radio Stio 95 abbiamo Merito TV Calabria e Sicilia che ti segue quindi che dobbiamo dire ai nostri amici calabresi e siciliani? beh seguitemi perché io sto cercando di portare avanti me stessa voi perché da noi è tutto un po' una grande famiglia famiglia no? assolutamente Messina e Reggio poi di che cosa dobbiamo parlare? poi è del sud direi che bisogna votarla 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 Specchierotti Alice Caioli incrociamo le dita mi raccomando seguitemi non solo Specchierotti ma successivamente anche il mio album che si chiamerà Nego Fingo Mento che è un po' poi ce lo spiegherò poi io lo spiegherò faremo la prossima intervista invece un saluto agli amici di Melito TV un saluto a tutti gli amici di Melito TV da Alice Caioli qui da Sanremo e e e e e e e e Grazie a tutti Amici di Melito TV sono in compagnia di Baglioni, ma Lorenzo? Baglioni quello finto? Non finto, ma tu sei il figlio nascosto di Baglioni? Diamo questo scoop, no, in realtà purtroppo no, sarebbe stato bellissimo, ma in realtà sono figlio di Roberto, perché Roberto Baglioni? Nessuno Ma questo cognome ha un po' influenzato secondo te la scelta di Claudio? Beh non lo so, forse è negativo, io fossi stato il direttore artistico avrei un po' avuto paura, no, sai, perché poi tutti dicono, ma magari è parente Poi la raccomandazione, chissà cosa c'è dietro, quando è una scomanda Nonostante questa paura della raccomandazione sono asserreo Allora parliamo di questo festival, Lorenzo Baglioni, che è un po' tutto, anche speaker radiofonico Ebbè, ho lavorato anche in radio, è bellissima la radio, io adoro la radio, c'è proprio un romanticismo che c'ha soltanto la radio Un saluto particolare proprio col tuo Esatto, annuncio anche una canzone, se mi date anche una canzone da annunciare dopo l'annuncio Il congiuntivo annuncio È normale E per forza, io posso annunciare proprio per contratto, posso annunciare soltanto il congiuntivo Allora parliamo della tua canzone, il congiuntivo, questo palco così importante, l'emozione, come ti sei preparato? Mi sono preparato cercando di curare i dettagli, perché poi venendo dal mondo del teatro, a me mi piace che tutto sia giusto E quindi noi abbiamo anche un impianto un po' scenografico, ci sono quattro ragazzi meravigliosi che stanno dietro di noi Coristi agghindati a modo che proveranno a far sorridere tutti Quindi ci sarà anche il balletto Assolutamente, c'è una coreografia, ora metteremo un tutorial sul web, tutti potete ballare il congiuntivo E così anche noi della sala stampa potremmo imparare, perché l'anno scorso noi abbiamo fatto in sala stampa il balletto di Gabbani Che ha portato bene, quindi io non so, secondo me si potrebbe... Allora, fissiamo subito una lezioncina e vengo in sala stampa a insegnare a tutti il ballo e il congiuntivo Che è facile, quindi si può ballare tutto Facilissimo, uscirà anche il tuo disco Esatto Ne vogliamo parlare il... Lo voglio anche far vedere perché sono molto orgoglioso di questa copertina Si chiama Bella Prof, uscirà il 16 febbraio 12 canzoni didattiche, ognuna su un argomento didattico diverso Tra cui ovviamente c'è anche il congiuntivo E che ti piace la copertina? È molto bella E io devo dire, è molto frizzante come te Sei entusiasta proprio di questa avventura, devo dire Sono molto contento Allora, ancora non tantissima Ma arriverà sicuramente E ultime battute Il tuo preferito o The Big? Il mio preferito? Io sono molto innamorato del progetto di Ron Che porta le sanzioni di Dalla Uno dei miei cantanti preferiti Poi lui collaboratore storico E quando è sul palco e l'ho vista le prove C'è una magia incredibile Noi ringraziamo Lorenzo Baglioni Fai un saluto ai nostri amici di Radio Studio 95 In questo momento siamo anche in diretta Facebook Ciao amici di Radio Studio 95 Io vi vorrei salutarvi Se fossi lì con voi per dire un congiuntivo Sarei felice E presto amici di... No, sarò letto Melito TV Ma non sono... Anche amici di Melito TV E di Studio 95 Con il congiuntivo Lorenzo Baglioni Un abbraccio e un grazie a Lorenzo Baglioni E ricordiamoci di votarlo Perché Olsetto all'otto Lui sarà sul palco dell'Ariston Assolutamente Il congiuntivo Lui sarà sul palco dell'Ariston Lui sarà sul palco dell'Ariston Come stai? Bene, bene, grazie, sempre più agitata ma bene. Agitata per l'esibizione o per tutto quello che è in ruota intorno al festival? Ma un po' per tutto, soprattutto però per l'esibizione, però sono emozioni che vale la pena di vivere, quindi sono felice. Questa canzone autobiografica, come stai? Vogliamo un pochino parlarne? Certo, è una canzone molto intima, è una canzone che parla di una parte della mia vita e quindi è un testo a cui tengo molto. Quello che è successo quest'anno è un po' diverso, gli altri anni c'era l'eliminazione, quindi Claudio Baglione ha voluto fare un po' un cambiamento. Tra voi giovani avete un po' parlato, penso, birra serena, questo aspetto, oppure preferivate invece la gara un po' più con l'eliminazione? Ma secondo me è una cosa, almeno per quanto mi riguarda, che mi fa stare sicuramente un pochino più tranquilla e è una cosa, secondo me, un cambiamento positivo perché comunque magari sai, gli eliminati magari si sentono sempre un po' come esclusi o inferiori, poi dipende anche tanto dal carattere di una persona, però sicuramente è una cosa che secondo me è positiva. Più visibilità, quindi riuscire a stare ancora sul palco. Cosa fai prima di salire proprio, prima di un'esibizione? C'è qualche rito scaramantico? No, sinceramente no. Vocalismi, qualcosa? Beh, quello certo, sicuramente, la preparazione della voce sicuramente, però per qualcosa in particolare che faccio, come Porta Fortuna o cose del genere, no. Invece parliamo dei progetti dopo il festival? Allora, sicuramente dopo, a prescindere dall'esito di Sanremo, continuerò il mio percorso artistico e stiamo lavorando a un disco, non sappiamo la data di uscita definitiva, però stiamo lavorando. Sempre un disco un po' autobiografico, scritto con quelle che sono le tue emozioni, le collaborazioni con qualcun altro? E adesso siamo work in progress, quindi... Svegliamo tutto piano piano. Esatto, esatto. E invece per quanto riguarda i big, c'è qualcuno con cui vorresti duettare, fare qualche progetto? A me piace molto Mario Biondi, perché si avvicina molto al mio mondo e quindi mi piace molto, è uno dei miei favoriti preferiti. Quindi noi ringraziamo Giulia, incrociamo le dita e ovviamente ti lascio 30 secondi, puoi fare l'appello ai nostri redescoltatori e telespettatori perché devono votarti. Allora, io vi invito a votare chi vi piace, quindi se vi piaccio votatemi, altrimenti non votatemi. Beh, molto sì. Fai un saluto agli amici di Merito TV. Un saluto a tutti gli amici di Merito TV, da Giulia Casieri vi mando un bacio. Un saluto agli amici di Merito TV Ciao Eva, sei ai microfoni di Merito TV, da Reggio Calabria. Ah, perfetto, viva la Calabria! Di nuovo! Prima di tutto devo chiederti come stai e come stai vivendo questo festival. Allora, come dicevo sono molto molto emozionata, non vedo l'ora di salire sul palco dell'Ariston, quindi è un'emozione positiva, non negativa, però diciamo che un po' di strizza si fa sentire sempre di più. E una domanda sui tatuaggi, dei big, chi vorresti tatuare e che cosa gli vorresti tatuare? Allora, guarda, ieri sera ero a cena con Gazze che mi ha chiesto se lo posso tatuare, quindi vediamo. Tra le altre cose, io ho appena fatto l'intervista con Max, che parla di questa sirena, ti ha chiesto qualcosa del genere? No, non mi ha ancora detto il soggetto, però mi ha detto che gli piacerebbe un tatuaggino da meglio, ho detto guarda, ho anche portato la macchinetta qui a Sanremo, quindi in casa lo facciamo. A proposito, ti piacerebbe fare qualcosa con lui o con qualche altra artista? Assolutamente sì, c'è solo da imparare da lui come da tantissimi altri artisti o da tutti i big che abbiamo qui, quindi... Facciamo un saluto agli amici di Melito TV. Un saluto agli amici di Melito TV, un bacione, ciao! 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 Io sono qui? Eccomi qua! Ciao! Ciao! Fuck! Ciao! ti aspetto qui sul carpet, al periccio perché qui c'è musica di animazione veniteci a trovare veniteci a vado ci siamo ci siamo ragazzi, non mi pare che un'assist ancora di un meglio perché qui, tutti i momenti Vengono il cuore, vengono il cuore, vengono il cuore Vengono il cuore, vengono il cuore, vengono il cuore! Buon essere ordre fornato, come sta. Lo pezzo palo famigliano? القezi! P потомi, lo tumore, com'è dunque, protagonista, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il gadget. Allora, dobbiamo chiederti come stai. Beh, sto bene. Sì, sì, sì. Quello lo confermo. Sto bene veramente. L'emozione si fa sentire? Quali sono un po' cosa stai attraversando in questi giorni? Quali sono i pensieri che arrivano? Guarda, sto attraversando una marea, ma veramente una marea di interviste. Tutti vogliono sapere qualcosa da me e la cosa ovviamente mi fa piacere. Inizia tutto questo tran tran, san remese, la gente che ti ferma per strada, l'autografo, la foto. Anche se sono convinto che la maggior parte della gente non sappia in realtà chi sono. Però nel dubbio. Dice, sai, fammela portare a casa la foto che non si sa mai un altro giorno. Allora, visto che tu pensi che non ti possono conoscere, raccontati. Allora, chi è Mudimbi? Mudimbi è Michelle, Michelle Mudimbi, di San Benedetto del Tronto, che tuttora vive da quelle parti, che ha scelto a 30 anni di lasciare il contratto a tempo indeterminato da meccanico. E mi hanno detto che sei pazzo. E mi hanno detto che sono pazzo. Sì, c'è anche un'altra scuola di pensiero, ovvero sia che sarei stato pazzo a rimanere in una vita che non sentivo mia. E adesso faccio musica. Provo a campare solo di musica. Ma è vero che è stato un po' un ancaso. Albertino sente una canzone, la manda in radio. Quello che è successo quattro anni fa? Sì, io ero a lavoro, infatti, in officina e mi arrivò un messaggio di un amico con scritto, guarda che su Radio DJ stanno passando la tua canzone. E tu eri ignaro di tutto. Io eri ignaro, infatti lì per la prima volta mi tremarono le gambe, ma veramente, perché dico, ragazzi, che sta succedendo? E fu il segnale, diciamo, che mi fece dire, forse è il caso che ci provi veramente con la musica, perché me la viveva ancora un po' come passatempo, come il gatto con la palla, io giocavo invece con la musica. Da lì ho fatto due anni, sono andato, invece che a full time, ho chiesto un part time, in modo da portare avanti sia la musica sia il lavoro, finché non ce l'ho fatta più a fare entrambe le cose, ho fatto la mia scelta. E ci sono due parole importanti che sono responsabilità e felicità. Esatto. Che tu hai detto. Sì, è vero. E in realtà la nostra più grande... Io ho studiato. Bravissima, veramente preparata, ragazzi, votatela. Sì, perché credo che la nostra più grande responsabilità sia proprio nei confronti della nostra felicità. Questo era il concetto. È un po' il concetto del tuo pezzo che porta a Sanremo il mago. Sì, in realtà sì, perché il mago dice viviamocela in maniera un po' più soft, cioè non stiamo veramente lì a puntare il dito su ogni piccola sventura che ci succede, che ci succede su ogni cosa negativa. Ogni tanto magari concentriamoci sulle poche cose positive e quelle negative troviamo il modo di farcele scorrere. Un po' di ironia. Sempre. Secondo me perlomeno serve sempre l'ironia. Avrai sicuramente un look particolare? Avrò un look impeccabile. Impeccabile, diciamo così. Ultima battuta, esce il tuo album, cosa ci puoi dire? Uscirà tra qualche giorno? Uscirà venerdì, questo venerdì 9 febbraio. Il mio album, che si chiama come me, così proprio è impossibile sbagliare Michelle, 14 tracce, c'è un sacco di roba diversa all'interno dell'album, perché è come sono io, io osservo cose diverse, vivo cose diverse, le racconto, perciò è un album veramente da ascoltare, probabilmente più di una volta, perché sai, l'ironia all'inizio ti fa sorridere, alla seconda ti fa fermare a riflettere. Poi c'è dell'introspezione, che uno così, primo a chitto non sente, quello deve risentire. Te lo confermo. Ok, allora fai un saluto ai nostri amici di Melito TV? Un saluto a tutti gli amici, ma soprattutto a tutte le amiche di Melito TV, non ci sono amiche? Quindi mi sembra di capire che sei single? No, no, per carità, se dici così sono morto più che altro. È un marpione. Possiamo, un appello, perché dovrebbero votarti? Non dovrebbero votarmi, dovrebbero solo guardarmi. Per la canzone o per il... Poi lo decideranno loro cosa fare, però intanto guardare. È simpatico, è simpatico. Grazie mille. Sì. Ok, salutiamo Mudimbi, un bacione, alla prossima. Ciao a tutti. Grazie. 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 Sanremo Live.